alcuni elettrodomestici possono presentarsi così senza spina e dobbiamo scegliere noi in base alle nostre esigenze cos'è meglio collegare possiamo collegare una semplice asciuco questa ad esempio è un asciuco di altissima qualità o una salva spazio come questa nel caso la presa elettrica si trovasse dietro l'elettrodomestico e avessimo la necessità di risparmiare spazio oppure possiamo usare una semplice spina purché sia da 16 ampere per intenderci quelle inferiori che non vanno assolutamente bene per gli elettrodomestici sono queste qui le riconoscete perché hanno i puntali più piccoli e più vicini tra loro questa è un'ottima spina perché si può anche spostare quindi da che abbiamo i puntali che spuntano da questa parte possiamo staccarli e spostarli e farli uscire da quest'altra a mio parere le migliori sono sempre l'asciuco quindi nel caso ci fossero tagliate le parti rigide io l'avevo già fatto ma le ritaglio lo stesso per farvi vedere e spellate i fili facendo attenzione a non tagliare troppi fili di rame qualcuno può capitare ma non bisogna esagerare potreste ridurre troppo la sezione del filo e creare problemi quindi le attorcigliate le accorciate anche un pochino se è necessario per iniziare montiamo prima questa spina se per caso volete comprare questa spina vi lascio il link di amazon in descrizione alla fine del video e nel primo commento si apre molto facilmente allentiamo le viti senza svitarle completamente adesso inseriamo i cavi dove quello di terra che questo giallo e verde va al centro che stringiamo questi due potete anche invertirli mettete lì come capita inseriamo anche l'ultimo filo e avvitiamo tiriamoli un po' per controllare che siano saldamente attaccati posizioniamo bene i fili così al centro e riassembliamo la spina e riavvitiamo stringiamo bene e la spina salva spazio e assemblata per quest'altra spina il procedimento è diverso visto che qui abbiamo poco spazio dobbiamo accorciare un po' di più i fili quindi li taglio la metà e li spello poi li attorciglio in modo che dopo posso inserirli meglio e accorcio un pochino stacco questo così sono più comodo la terra sempre al centro e stringo questo lo collego dove sono più comodo in questo caso qui e poi quest'altro e stringo bene adesso riassemblo la spina e faccio passare il cavo per poi fissarlo e la spina è assemblata se avete utilizzato una spina asciuco dovrete utilizzare una presa asciuco ti sono stato utile? fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto grazie ciao ciao